C'è il coronavirus, ma anche i tumori e le altre malattie di diversa gravità e natura, ciascuna con il suo decorso, non meno importanti del covid-19. Da qui il rischio che l'emergenza in atto monopolizzi l'attenzione collettiva a discapito delle diverse patologie, con le quali dovremo fare i conti anche quando l'epidemia sarà soltanto un ricordo. Con le nostre telecamere oggi siamo entrati nel reparto di chirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord, dove prosegue incessantemente l'attività sotto la guida del primario Alberto Patriti. Abbiamo avuto nel 2019, qua facevamo 2018 interventi all'anno circa a Pesaro e a Fano 1800 circa e abbiamo avuto un calo di 600 interventi a Pesaro e di 800 interventi a Fano, ma che sono nulla rispetto a molti altri ospedali. Abbiamo fatto degli studi scientifici che ci sono stati pubblicati, sono stati i tre primi nel mondo occidentale, che hanno messo in evidenza come il covid vada ad impattare negativamente sul trattamento delle altre patologie. Noi abbiamo fatto degli studi sulle emergenze chirurgiche e sul trattamento dei tumori del coloretto e abbiamo visto come già nei primi mesi di inizio della pandemia le urgenze chirurgiche erano calate del 60%. Questo sta a significare che molte persone, per paura, rimanevano a casa, precisa il dottore, e il timore di recarsi in ospedale ha provocato ulteriori danni alla salute, aggravando le patologie. Buoni invece sono i dati che arrivano dalla struttura semplice di chirurgia del coloretto, fiore all'occhiello di Marche Nord ed eccellenza a livello nazionale. Noi abbiamo discusso nel 2019 174 casi di tumore del coloretto divisi in 122 del colon, 46 del retto e 6 dell'ano, che sono rimasti identici nel 2020 pur avendo due mesi circa in meno di tempo materiale di lavoro perché era il periodo covid in cui ci siamo spostati all'ospedale di Fano, dove abbiamo continuato a fare tumori, ma come diceva il dottor Patriti prima, molta gente per paura di venire in ospedale si teneva il tumore a caso, addirittura se chiamati dalle nostre strutture preferivano ritardare di uno o due mesi piuttosto che venire in ospedale. Anche nel 2020 abbiamo fatto 48 tumori del retto e 6 tumori dell'ano, che vuol dire un lavoro molto importante perché è un lavoro multidisciplinare. Infatti prosegue Corinaldisi non coinvolge solo il chirurgo, ma anche l'oncologo e il radioterapista. Messo comunque a dura prova dalla pandemia, il sistema sanitario ha dovuto rapidamente e drasticamente riorganizzare le proprie attività per garantire le migliori cure a tutti i pazienti, evitando il rischio di contagio. Massima infatti è la sicurezza sia all'interno dei reparti che nel blocco operatorio. Ad illustrarci le procedure questa mattina sono stati i coordinatori infermieristici Romina Raffaele e Nadia Di Giovanni. Il superlavoro dei sanitari prosegue anche al Santa Croce di Fano, dove è ripresa l'attività in dei sergeri. I codici A anche per il desageri erano sempre evasi, mi riferisco a tumori cutane, melanomi, quell'attività non si è mai fermata, come quella oncologica qui a Pesaro. Quelle sono attività che sono andate avanti in continuazione, ma adesso possiamo dire con orgoglio che abbiamo ricominciato anche a operare la patologia benigna in desageri a Fano, quindi mi riferisco alle ernie, le varici, patologia benigna dei tegumenti. Lo diciamo con orgoglio perché ha rappresentato un grosso sforzo organizzativo per poter ripartire.